Signorina, a fuoco come banana, a fuoco proprio! Ciao, sono Gennaro Parista, unitriamo per un caffè per ballegriare questa bella giornata del sole. Abbiamo espresso, macchiato, cappuccino. Il vero caffè macchiato napoletano lo faccio con questa quantità di caffè e questa quantità Ora preparatevi sta bella tazzarilla di caffè macchiata e come meglio pulite. Venite da appigliare questo bello caffè! O che vei Gennaro, talpichai giornata.